Partiamo con 10 hamburger in una teglia Pratichiamo il massaggio cardiaco, che anche a loro è venuto un infarto Strato di patatine al plutonio, di quelle che non ammuffiscono mai, neanche dopo 60 giorni nella foresta pluviale Lo sciroppo d'acero, mica è un pancake Ragù di nutria e il solito bustone di cheddar Tante fette di pancetta tesa, è normale che sia tesa, ha paura di scoprire cosa verrà dopo Semaforo di tacchino e un po' di sciroppo per aumentare le difese immunitarie Vivi, sezioniamo altri hamburger, non ti permettere di buttare il pane Creiamo uno strato di cotolette fritte nel catrame, a giudicare dal colore della panatura Altro pomodoro di nutria, messo così a caso E strato finale di sottilette, composte con besciamella e grasso giallo di pollo paesano Ora assaggiamo Ecco il momento in cui pensa, questa volta non sopravvivrò Con tutti i grassi che ha questo piatto, più che lasagna, dovrebbe chiamarsi la sugna